e quindi fino ad arezzo saranno 600 700 chilometri al massimo l'acqua strada a strada si arriva quando sei sicuro che vuoi andare a più? vabbè tanto due passi che giorno è oggi scusa oggi è il 19 maggio è il 19 maggio e fra due mesi arezzo wave ci facciamo due passi e arriviamo io preferirei andare almeno con un pullman ora vabbè dai noi ci avviamo faccelo aggiungi un pullman dai ci vediamo allora ci vediamo sul palco di arezzo wave la no ah ah soon this is a bach oh what a shot